Qui dobbiamo allegare la testa e l'emotività, dobbiamo capire come si lavora. Lo stai ripetendo a memoria, più o meno un'idea di come tu vorresti che questa cosa vivi. Eh, ma non dirvi quale è questo? Da lontani l'obiettivo. Non bisogna fare la scena, abbiamo detto, bisogna provare davvero. Grazie. Grazie.